Marti, Gosaes, Gaiotovacca, Schieden, B, Sportes, Hernandez, Piazza, 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 Piazza. Qualcuno è rimasto fermo, allora dicevamo solo i primi cinque, non importa il tempo, solo i primi cinque passano in finale. Adesso vediamo i passaggi subito al primo giro. La Prianza per lui, Maggiora. E' finito. So the top three guys that we've got. Martínez Gonzalez, Gentes, Daniel Veloso Vázquez. Ricordiamo solo i primi cinque, quindi otti puntati sulla quinta posizione, mentre davanti sembrano davvero non avere problemi. Martínez Gonzalez, Gentes, Gentes. Sei giri previsti per le semifinali, mentre ricordiamo che le finali si foglieranno su sette giri. E intanto attenzione, sempre Thomas Predianto è in quinta posizione. Ma lui sta puntando forse addirittura alla quarta, mentre qui davanti sembrano quasi fuori a gara di... Sì, tanto sì, abbiamo un altro pilota ritirato. Bollinier. Buon sfortunato i piloti francesi in questa prima semifinale. Buon sfortunato. Buon sfortunato. Buon sfortunato. Buon sfortunato il bello e Eurobana. Mi generale, questa è stata andata a tre Intanto davanti, attenzione, un contatto tra Ghentan e Gaioso Vázquez, con Gaioso Vázquez che ci crede e vuole condussare la seconda posizione per una doppietta tutta spagnola. Fregliasco molto vicino a Suisson. Grazie a tutti. Intanto ragazzi del service, forse bisogna solo cambiare le pile. Allora, noi intanto andiamo a vedere che con il numero 427. La seconda posizione è stata la seconda posizione per l'appare del suo gruppo. La seconda posizione è stata la seconda posizione per l'appare del suo gruppo. Intanto Rodolfo Cambiaso è fermo Alla Sul rettilineo appena dopo la curva 1 Sta cercando disperatamente di liberare il proprio kart E forse ce la sta facendo I ammbrato I ammbrato Non è un'occhiata I ammbrato I ammbrato Alla 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 Al Alla 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 Per il terzo posto, andiamo a vedere le progetti. Dico ad Alessandr Karim-Makusi siamo in finale. Alessandr Karim-Makusi nasce, trasferendino in finale. Il d'ent blockedo Ementr Perrot e attenzione perché c'è una grande battaglia per la posizione tra Alexander Karimmancusi e Enzo per Otomero Luca Carcel from Belgium is driving his LR Votokan Anzi non c'è via, ma invece Alexander Karimampuni che guarda l'attacco dei due piloti che lo seguono, Benzo Beratomerò e Bernardo Vitti, che si avvicinano tantissimo nella parte iniziale del traggiato, poi, attenzione la gestione, cerca di entrare il traiettore che lo toverò ma non riesce, e anzi rischia di essere superato da Alexander Vitti, Alois Führer, Tutti lì, Lui Kakatello! Abbiamo un bel passaggio, è un'altra partenza di Alexander Vitti, Alois Führer, che si è andato dunque per recuperare una buona andatura, intanto vediamo che prosegue la battaglia, Alois Führer! La chiusura è un'altra partenza di Alexander Vitti e Milano, Evo Rai, e Volante! Tutti sui muri comunque sono andati Ah come boy ad un rificio Grazie a tutti! Spagna con Daniel Carlioso Vazquez Inizia dalla seconda rossa E uno dei tre Ma il ragazzo franzoso Ah, il ragazzo è il ragazzo Nooo Con la ragazza E' il ragazzo Oh, e' il ragazzo E' il ragazzo E' il ragazzo Ma che pian piano si sta girando Vai 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 no 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 Buongiorno! Buongiorno! And Tomasen Freccivian School have to retire during this final And there is still a big fight David Brands in the final I just reminded you guys this is the main team leader arm of the FIA Eurocanos project and champion that So, it's part of it part of it Peter is saying and the Red Bar and the Red Bar it's part of the Red Bar and the Green Bar and the Red 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 Bar are going to be able Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.